L'Italia continua a fronteggiare una fase di instabilità meteorologica che non sembra dare tregua. Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo arancione per la giornata di domani, domenica 25 febbraio, che interesserà gran parte della Sicilia, ponendo sotto avviso anche diverse altre regioni con un'allerta meteo gialla. Il fronte di maltempo si estenderà su basti settori del sud, coinvolgendo in totale sette regioni. Oltre alla Sicilia, saranno interessate Calabria, Veneto, Basilicata, Campania, Lombardia e Puglia. L'allarme riguarda principalmente il rischio di temporali e problemi idrogeologici in vari settori della Sicilia. La causa principale di questa ondata di maltempo è un minimo di bassa pressione in transito sul Marrionio, che porterà condizioni di tempo instabile soprattutto al sud e sulle isole. Con nuvolosità diffusa e precipitazioni sparse, tra piogge e acquazzoni. Al nord, nonostante un mattino nuvoloso con deboli fenomeni previsti su Liguria, Lombardia e Arco Alpino, con nevicate al di sopra dei 500 a 700 metri, si prevede un miglioramento nel pomeriggio, con maggiori schiarite ma possibili locali fenomeni sulle Alpi occidentali. Il centro vedrà tempo più stabile al mattino, nonostante la presenza di nuvolosità in transito. Le temperature subiranno variazioni significative, con una generale diminuzione delle minime e un aumento delle massime al centro-nord, mentre al sud si registrerà un calo.